...sia ufficialmente il momento più atteso, la gente che parteciperà stasera avrà il curriculum vite stroncato per sempre. Venite a distruggevi l'esistenza alla gara del rutto, nome in codice Carlos, ma noi ci faremo dai, in generalità il codice fiscale. No pota non parti, la maglia del vernaoliere, io ci lavoro, bravo, ci ha portato 10 euro della maglia, grazie. No, dici da dove vieni, magari. Vengo da Torricchio. Lui c'è già stato l'anno scorso, io me lo rivolgo. L'ultimo, c'è un nome strano, General Nether... ma che cazzo? General Nether Star. Metanolo testa di cazzo. Oh, una sfida questa, una sfida. No, metanolo, era un bambino, ora è un adulto senziano. Ciao, un altro bimbo giovane, ciao. Vuoi sapere perché mi chiamo così? Sì, sì, sì. Allora, ho scelto questo nome, General Nether Star, perché i ruti nascono ovviamente nel mio stomaco, ovvero nel sottosuolo, praticamente nel mio corpo. E i ruti sono la mia stella, quindi stella del sottosuolo. Senti, la laurea, dove l'hai presa? C'è un pediatra. E' un pediatra. Senti male. Cioè, voi capite perché io vengo da Livorno, ho fatto questa cosa tutti gli anni, da quattro e dici anni. Ok, ci siamo. Avete bevuto? Ah! Rutto potenza, rutto fantasia. Quindi c'è, rutto potenza si apisce, rutto fantasia si apisce lo stesso. Ah, prova di rutto, quindi non competitiva, per scaldare i microfoni, vai con la prova del rutto, chi se la sente quando vuole. Vai, il campione. Sa, sa, funziona. Quando fa sa, sa, funziona, è già rutto. Dai, dai, lo bello, va bene, mi scherci per davvero. No, porta, lo parti, mi ricordo. Ah, sì, lo scherzo. Ah, fantastico. Vedi? Vedi? Ora si può andare via. La Turandò, inizia o sì? Questi sono per i bimbi, eh? Sembra un po' una assata morta, però... Allora, guarda, il bimbo che mi dà di Guinness. Non sa bene per il bimbo. Con la birra nel boccale andiamo a ruttare. Dai, dai, dai. The caveman. Vai, vai. Ricordo, c'è anche il ruttometro, il ruttometro, il ruttometro dietro. Vecco, ecco, ecco, ecco. Poglia dee. Mi ricordo anche che c'è il generale Naderstall qui, che ora finisce di ripassar storia e poi viene. Vecco, ecco, fermo. Aspetta. C'è, c'è, c'è. The caveman. La mente è lì, c'è lì, c'è lì. Era uscì la poesia, poi l'hanno allungata dopo. Se lo sa da l'inghietta, mi ha in più. Ebbene, basta! Si va con la gara. Eh, se no ci fa le 3.20 e poi devo tornare a Livorno. Con chi sei venuto da solo, con la macchina, guidi te, che macchina c'hai? Non è la patente. Non è la patente? Lui ce l'ha. Lui ce l'ha. Lui ce l'ha la B e la D. Ce l'ha tutto. E una l'ha inventata lui. Bene, siamo pronti. Inizio la gara. Rutto potenza, rutto fantasia. Lo capiremo quando li sentiremo. Parte ufficialmente la gara dopo. A eliminazione se ne terrà. 8, 7, ora si guarda. Vai con la gara! È iniziata la gara! Parte il campione. Volevo chiedere... Ma... Fate le gare? È una cosa mia, tu vuoi capire? È una cosa tua. Non lo so. Fate le gare? Corri lì, fate le mani in posto. Continua dopo. Voi non me lo sentite, ma... Partito malissimo. 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 Le fate dare le spalle Tutti sull'attento Chi non ci ha sentito italiano in questo momento? Più italiani di prima Ha piegato il microfono Ci fa i migliori 5 a partire da adesso Questa è la nostra cerchia Dei contendenti Che cosa ci fa i migliori? No, no, no Uno da prendere per il culo ci vuole I migliori A partire da Rutto Potenza Che va i ragazzi sotto sotto? E' pronto di nuovo Ha bevuto 11 litri di Coca-Cola Ha scoperto anche l'ingrediente segreto Dove le mancava della formula della Coca-Cola Manovra di Rutlick Con la mossa che fanno nell'ospedale Ha visto? E' una manovra di Aylin La manovra di Aylin Che lo sa? Perché l'ha inventata lui Cosa ne sai che la manovra di Aylin? E' una manovra di disostruzione delle vie aeree Quando prese la laurea in medicina Tecnicamente vorrei fare robotica Robotica? E' venuto a gare in Rutlick Ma per trovare lavoro come ingegnere domani Cioè mia a voi Vai No, stai Fane uno brutto Che ti si possa eliminare Ora te conquisti tutti i titoli No, sono stato io, scusami, perdonami In quanto si asciuga Che secondo me C'è lo zucchero Benissimo Sì? Vai, vai, vai E ci ridono Come dire La composizione gassosa del Rutto È composta per il 49% di anidride carbonica Cosa c'è dentro un Rutto? Un po' di ossigeno anidride carbonica E qualche batterio dell'autodigestione? E anche un po' di ritorno Io sono fermo Al batterio dell'autodigestione Né un altro Né un altro Poi ci spiegheremo Guardate Io Lo voglio dire Io ho una laurea e un master Ma il batterio dell'autodigestione Non mi sarebbe mai venuto in mente Cioè Ma te sei wireless con Google O sai tutto Per conto tuo? Cioè Cosa Cosa ti turma nella vita? Io babbo da piccolo Per funizione Mi faceva ricopiare Pagine di enciclopedie Fantastico Quando facevi tutti Due pagine di enciclopedie Io vedo No Cavolate di altro genere Benissimo Ah sci, pirapine Le osse si fanno tutti Da cinque anni Abbiamo quattro finalisti Perché no Ci si fa Orientiamoci Fra Rutto Potenza Rutto Fantasia E poi La grande mutazione del pubblico Eh? Che è successo? Sta spiegando Devo fare una pozione di rigenerazione Benissimo Ok La birra è salita Ok Vai vai Potenza Miiede Potenza Fantasia Fai che? Che stupido Non ci ha ispirato Così Accattivo Bravo Un momento terribile Adora Fateli dentro Fantasia 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 Momento fantasia Attenzione Potenza Mi vuoi fare ancora potenza Vai Giro di potenza Guarda come mi jaga La persona che fa A distanza A distanza A distanza Il vostro Un momento terribile Che è Fai 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 Chiacchia li faceva? Chi era? Lampoletto? Quanto faceva foglio? I fogli e Godzilla ci abbiamo anche! Pareva salisce la creatura dell'inferno! Iolo! Iolo! Sono termini giovani! Vabbè facciamo un giro potenza e un giro fantasia, poi si fa la grande votazione finale! La canzone dell'estate! Cos'era? Fammi un selfie! Ci sta bene! Vai vai! Questa è la satana! Chi era? Satana! Che tutta blisa delle cose! Hai detto fammi un selfie all'inizio! Tu... E... E... ... Grazie a tutti.